La Regione Marche ha approvato recentemente il piano di difesa della costa per un totale spalmato su 10 anni di 290 milioni di euro di investimenti, 45 dei quali andranno a difesa della costa fanese. Fano, nella poco rassicurante classifica regionale degli interventi da effettuare, è piazzata seconda per importo assegnato. Prima di lei c'è Porto Recanati che, come Fano, anche recentemente è stata devastata dalle mareggiate con strutture e arenile spazzato via dalla furia del mare. A Fano questa mattina è stato presentato, congiuntamente da Amministrazione Comunale, Vertici Regionali, RFI, l'approvazione del primo stralcio di interventi per scogliere da realizzare a Fano. Sei scogliere andranno a difendere il tratto di costa a sud della foce del Metauro, dove non ci sono al momento concessioni balneari o strutture ricettive, se non una sola, appena lambita dall'intervento, ma la ferrovia che lambisce la costa. Nel tempo però, ci hanno detto in conferenza stampa i funzionari regionali, queste opere, che verranno realizzate più a largo di quelle a sfioro esistenti ora, creeranno nuovo arenile e quindi in prospettiva futura si apriranno nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico. Un risultato, questo raggiunto, per nulla scontato, ha sottolineato Renato Claudio Minardi, che arriva a conclusione di un lavoro corale di equip iniziato diversi mesi or sono. Questo primo intervento che va a seguire agli interventi di difesa della costa nella zona di Sassonia, credo che sia un investimento importante e credo che sia anche la giusta attenzione che la regione ha nei confronti del comune di Fano e del nord delle Marche. Un tratto di costa interessato dai lavori di 1,3 km dove verranno posizionate 4 scogliere lunghe 160 metri e 2 da 200 metri, utilizzando anche materiale già presente sulle scogliere soffolte a ridosso della massicciata. Stiamo parlando inizialmente della realizzazione di 6 o 7 setti, considerato anche il ribasso, a proteggere quel tratto di costa, quello di Metauriglia, che in futuro potrà essere anche sfruttabile dal punto di vista turistico e quindi migliorato. Un'altra parte di territorio a cui noi teniamo molto, oggi iniziamo un percorso, i percorsi purtroppo quando si parla di scogliere sono percorsi lunghi perché le scogliere costano e dunque iniziamo un percorso che ci servirà da qui a qualche anno, almeno noi questo vogliamo, difendere tutta Metauriglia dalle regioni del mare. Per la parte nord della Sassonia, deturpata dalle mareggiate, tempi più brevi, il 13 del mese in corso, scade il bando da 650 mila euro per la realizzazione del setto di scogliera davanti a Bagni Maurizio. Il 18 si aprono le buste e quindi l'appalto ha segnato, ma per il restante tratto invece si confida in una strena natalizia.